Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dai pastori Claudio Paschè e Donato Mazzarella. Buon ascolto. Care amiche, cari amici in ascolto, benvenuti e buona domenica. Vi invitiamo a unirvi a noi per un momento di culto e di lode al Signore. Dio ci ha fatti e fatte membri della sua famiglia, ha fatto di noi la casa di cui Gesù Cristo è la pietra angolare. Egli viene per abitare con noi, per mezzo del suo Spirito. Diamo lode al Signore. Amen. Leggiamo dal Salmo 8. O Signore e Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposto, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi. È il figlio dell'uomo perché tu ne prenda cura. Eppure tu l'hai fatto solo di poco, inferiore a Dio. L'hai coronato di gloria e di onore. Lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. O Signore, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Raccogliamoci in preghiera. Nostro Creatore, ti ringraziamo perché ci hai affidato la custodia dell'opera delle tue mani e il privilegio di lavorare in essa. Guardiamo alla meraviglia della tua creazione con stupore, con timore e siamo anche spaventati dalla nostra inadeguatezza. Ma al tempo stesso ti siamo grati e gratte per la tua fiducia. Tu ci consoli. La grazia della tua presenza anche in questi momenti in cui pensiamo più intensamente a te non fa che ricordarci la tua grandezza. Ti chiediamo di farci diventare persone capaci di accogliere come tu ci accogli in questi momenti, capaci di accoglierci reciprocamente perché tu vuoi che tutti e tutte insieme ci consideriamo tuoi figli e tue figlie. Signore, tu ci concedi la tua presenza. Signore, ti ringraziamo per il tuo amore e la tua bontà. Ti ringraziamo perché possiamo ripeterti quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Amen. Grazie. 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 leggiamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 i versetti da 31 a 36 Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi essi gli risposero noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno come puoi tu dire voi diventerete liberi Gesù rispose loro in verità in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa il figlio vi dimora per sempre se dunque il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi il signore benedica per noi la lettura e l'ascolto della sua parola fratelli e sorelle in ascolto io voglio immaginare la sorpresa dei giudei dinanzi a queste affermazioni di Gesù sarete liberi ma come la reazione siamo figli di Abramo non siamo mai stati schiavi di nessuno e Gesù invece vuol far capire che le cose sono un po' diverse non siete schiavi a livello sociale ma siete schiavi del peccato tante volte perché anche voi cadete nell'egoismo nella chiusura nell'intolleranza e solo io posso liberarvi ma chi è questo Gesù che ha queste pretese sembra che qui riecheggi la domanda di Cesarea di Filippo quando Gesù chiede ai suoi discepoli voi chi dite che io sia lo avete davvero capito dopo tutto quello che avete udito dopo tutto quello che avete visto la risposta di Pietro a nome anche dei altri tu sei il Messia sei il Cristo cioè sei il Messia ma cosa significa essere il Messia Gesù certamente non è stato il Messia di chi lo immaginava come un liberatore politico che avrebbe con la spada cacciato via l'invasore romano ma è il Messia che salva e libera a livello più profondo è il Messia che viene a liberare dal peccato e da quella che è la fonte di ogni peccato che è l'egoismo di fatti il peccato anche se rimane presente nella nostra vita non ha più il potere di soggiogarci e di separarci da Dio Gesù quindi è colui che libera dopo più di duemila anni di cristianesimo credo che noi dobbiamo riscoprire l'autentico volto di Gesù Cristo liberatore e per poterlo fare innanzitutto dobbiamo cancellare dalla nostra mente l'immagine del Gesù Cristo oppressore il Gesù che ti induce a subire passivamente col pretesto che la tua sofferenza contribuisce a salvare il mondo ma la Bibbia ci dice tutt'altra cosa ci dice innanzitutto che salvare il mondo ci pensa Gesù Cristo Gesù Cristo è l'unico salvatore ed è colui che pur avendo subito per scelta la sofferenza è colui che l'ha combattuta Gesù ha guarito i malati e quindi ci ha dato un segno che la sofferenza purtroppo ci capita addosso ma non è voluta da Dio è solo permessa dobbiamo toglierci dalla mente l'idea del Gesù Cristo giudice severo che ti controlla che è pronto a coglierti in fallo ricordo quando ero ragazzino su certi muri leggevo Dio ti vede quasi come se fosse una minaccia e invece non pensare che è una meravigliosa realtà il Signore ti guarda il Signore veglia su di te e sulla tua vita è una cosa molto bella non è certamente una minaccia anche se probabilmente chi ha scritto quelle parole voleva intenderlo come minaccia dobbiamo toglierci dalla solamente il Gesù Cristo nel nome del quale l'inquisizione ha ucciso i suoi avversari perché voleva imporre le sue idee voleva imporre le sue posizioni che cosa ha fatto Gesù nella sua vita Gesù non ha mai imposto le sue idee con la violenza Gesù ha sempre proposto la sua sequela e il suo messaggio ottenendo a volte anche dei rifiuti come quello famoso del giovane ricco l'Evangelo ci annunzia che Gesù Cristo è il liberatore di una libertà totale che può scaturire ci dice Giovanni solo dalla verità la verità vi farà liberi e questa espressione ci fa capire alcune cose innanzitutto che tutto ciò che non produce libertà non può essere verità non possono essere verità le idee imposte nessuna dittatura può dire che porta la verità perché non dà la libertà tutto ciò che non dà la libertà non è verità l'Evangelo dice questo e poi dice anche l'altro aspetto complementare che l'autentica liberazione può avvenire solo dall'affermazione della verità cioè non è possibile costruire l'autentica libertà sulla menzogna quella che ti dice sopporta e sta zitto assolutamente non può essere questa la verità e non può essere verità una verità imposta e quanta gente è stata perseguitata e in tante parti del mondo viene ancora perseguitata a causa delle proprie idee nessuno può imporre agli altri le proprie convinzioni spacciandole per verità assoluta questa si chiama intolleranza una presunta verità imposta non è mai fonte di libertà ma è sempre motivo di oppressione una verità imposta ha prodotto schiavi di quell'obbedienza totale che veniva richiesta da obbedisci a chi è ti è superiore quasi come se fosse una cosa senza rifletterci devi obbedire basta ha prodotto vittime le vittime dell'intolleranza e della persecuzione e succede purtroppo ancora oggi in tanti paesi che per motivi religiosi lì si rischia perfino la vita se ti poni contro i dettami delle autorità religiose questa presunta verità che ci vorrebbe sottomessi e rassegnati fratelli e sorelle non è la verità di Gesù Cristo la verità di Gesù Cristo è la verità di un che ci ama Giovanni qualche capitolo prima di questo qui diceva Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna Gesù ha condiviso la nostra fragilità ha condiviso i limiti della nostra natura umana per salvarci e per salvarci non da lontano ma divenendo uno di noi per salvarci da vicino dobbiamo imparare dall'Evangelo che l'autentica verità quindi non è mai tronfia non è mai trionfale è la verità di Gesù Cristo crocifisso chi vuole staccare questa verità dalla croce diventa il commediante della verità non il testimone della verità e non sarà mai veramente libero quali sono le conseguenze di tutto questo che il discepolo dell'autentica verità sarà sempre umile e avrà la consapevolezza di non arrivare mai al possesso della verità un'altra conseguenza è che sarà sempre rispettoso delle idee altrui e non indulgerà mai all'intolleranza si sentirà autenticamente libero e gioirà dell'affermazione della libertà degli altri perché chi ama veramente la libertà non può pensare solamente alla propria libertà ma deve pensare alla libertà di tutti se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi oggi Gesù lo dice anche a noi il nostro impegno per il bene e il nostro rispetto per le idee di tutti testimonieranno che siamo discepoli di Gesù e che la verità ci ha resi davvero liberi amén un pregato l'uomo la cui trascensione è perdonata è giustificato pace via con Dio per Gesù Cristo benedetto il Signore perché è qui la voce della mia preghiera vogliamo ora raccoglierci in preghiera Signore ascolta la nostra preghiera e le nostre preghiere non vogliamo dimenticare finito questo culto quello che abbiamo udito e desideriamo che la tua parola si inserisca nella nostra vita quotidiana rendendola feconda consapevoli della chiamata che tu ci hai rivolto consapevoli della presenza del tuo Evangelo della tua forza che si dimostra nella nostra debolezza ti preghiamo per tutti gli uomini e per tutte le donne che affrontano difficoltà di salute di povertà di emigrazione per quanti sono stati colpiti da eventi naturali e per quanti sono costretti a vivere l'assurdità della guerra Signore ci affidiamo alla luce del tuo spirito per essere tuoi testimoni nel tempo presente te lo chiediamo nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti così come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male poiché a te appartengono il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen riceviamo ora la benedizione del Signore Rimanete in comunione gli uni con gli altri e le une con le altre nel nome di Cristo andate in pace e lo Spirito diriga i vostri passi perché possiate vivere nella verità la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia e rimanga con voi tutti ora e sempre Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dai pastori Claudio Pasquet e Donato Mazzarella e Donato Mazzarella e Donato Mazzarella